Ogni segno dello Zodiaco è associato a un Angelo Custode e a forze angeliche che operano insieme per guidare e proteggere noi esseri umani. Alcune persone hanno la capacità di attivare e comunicare con le proprie forze angeliche, stabilendo un legame diretto con la propria missione sulla Terra e con le sfide da affrontare lungo il cammino della vita. L'Angelo Custode rimane sempre al nostro fianco, proteggendoci dagli squilibri e dai pericoli che possiamo incontrare lungo il nostro percorso. Queste forze angeliche sono strettamente collegate ai segni zodiacali e ai loro tratti caratteristici, offrendo orientamento e protezione in ogni fase della vita. Ti consigliamo di arrivare fino alla fine del video, dove scoprirai le affermazioni positive di ogni segno per connettersi con il proprio Angelo Custode. Esploriamo ora quali sono gli angeli associati a ciascun segno zodiacale, comprendendo meglio il loro ruolo protettivo e benefico nelle nostre vite. L'Ariete è guidato dall'Arcangelo Kamael, noto per la sua dualità e equilibrio interiore. Il suo ruolo è cruciale nelle missioni importanti per l'umanità, collaborando strettamente con l'Arcangelo Gabriele. Toro e Bilancia sono entrambi custoditi dall'Angelo Anael, che rappresenta l'amore e la bellezza, ispirando la fiducia e il successo nelle relazioni interpersonali. I segni gemelli e vergine sono sotto la protezione dell'Arcangelo Raffaele, noto per la guarigione e la saggezza che porta nella vita delle persone. Il cancro è associato all'Arcangelo Gabriele, portatore di messaggi e compassione, e guida spirituale profonda che opera attraverso sogni e intuizione. Il leone è sotto la protezione dell'Arcangelo Michele, che, simbolo di giustizia e protezione, aiuta a superare gli ostacoli e ad affrontare i cambiamenti con la forza interiore. Lo scorpione è guidato da Azrael, l'angelo della trasformazione e del perdono, che aiuta a superare i cambiamenti e a trovare pace interiore. Il sagittario è protetto da Sakhiel, l'angelo della benevolenza e della compassione, che ispira sentimenti nobili e altruisti. Il capricorno è guidato da Haniel, l'angelo della solitudine e della saggezza interiore, che incoraggia una comprensione profonda della propria essenza. L'acquario è associato all'Arcangelo Zuriel, che porta saggezza e provvidenza economica, aiutando a superare le difficoltà e a progredire con determinazione. Il segno dei pesci è custodito da Haziel, l'angelo della speranza e della rinascita, portatore di un nuovo inizio e di gioia interiore. Infine, le seguenti affermazioni positive sono un modo per connettersi con il proprio angelo custode e trarre ispirazione lungo il percorso della vita. Ariete, Dio e i Suoi angeli mi guidano con amore e potere. Toro, la saggezza di Dio e degli angeli mi ispira sempre. Gemelli, so che Dio e i Suoi angeli faranno sì che tutto vada bene. Cancro, so che Dio e i Suoi angeli mi guidano attraverso i sogni. Leone, con l'aiuto degli angeli il mio cuore si apre all'amore. Vergine, l'amore di Dio mi guarisce, gli angeli mi sostengono. Bilancia, con Dio e i Suoi angeli il mio potere è illimitato. Scorpione, le mie meditazioni diventano vivide e chiare. Sagittario, l'amore degli angeli mi dona una maggiore comprensione. Capricorno, gli angeli mi danno pace e mi connettono con l'universo. Acquario, gli angeli mi aiutano a visualizzare un mondo di gioia e felicità. Pesci, Dio e i Suoi angeli proteggono me e i miei cari. Se questo video angelico ti ha ispirato, ti invitiamo a iscriverti al canale Dose Mentale per altri contenuti simili. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie.